Hello guys, Renan here! Benvenuti con questo nuovo video qui sul mio canale Siamo su Terra e continuiamo subito La nostra esperienza di questing estremo Signori, mentre mi faccio questa cavalcata Volevo ricordarvi prima di tutto che il gioco È gratis e lo potete scaricare dal link Qua sotto se vi registrate Prima di tutto possiamo giocare insieme Perché troverete tra i server Veritas Che è quello in cui gioco io Seconda cosa, sostenete me e il mio canale perché Questo gioco lo faccio con un piccolo placement Quindi per ogni registrazione ci guadagno Qualcosina e ovviamente mi fa molto piacere Se mi aiutate in questo mio progetto Seconda cosa invece voglio ringraziarvi Perché sono molto contento di poter Portare sul canale un gioco come Terra Sapete che io sono particolarmente Legato agli MMO, ho un'esperienza Molto grande Possiamo dirla così, ne ho provati Davvero davvero tanti e Avere appunto la possibilità Di proporvi un titolo che secondo me Oltre ad essere gratuito è anche molto valido E mi fa piacere Siamo capitati nella nostra prima quest ripetibile Che è quella di cacciare questi amati Lupacchiotti che non sono lupi Questi gattoni che non sono gatti Vabbè, quella roba lì Cyber tut Ed è appunto una quest ripetibile Cosa significa? Significa che noi avremo praticamente Non so se adesso si può ripetere all'infinito Ma sicuramente avremo Tot giorni, tot orari In cui potremmo andarla a rifare E appunto prenderci un po' di exp extra Per chi di voi ha giocato a World of Warcraft Dovrebbe essere qualcosa di simile alle daily Ovvero delle quest che hai tutti i giorni Sono quest tutte molto simili E che appunto ti permettono di avere un po' di expo O avere di reward particolari O alzare addirittura delle reputazioni Su solitamente le daily Si facevano per quello O per farmare degli oggetti Però comunque insomma Diciamo che sono delle quest ripetibili Che ti danno robe a caso In generis E qui abbiamo una seducente signorina Che è più bassa di me Perché noi siamo Swag E ci dà una quest Quindi signorina Dica tutto Abbiamo anche Quello che sembra suo padre Non troppo O ci prendiamo la quest anche da lui E andiamo avanti Dobbiamo fare qualcosina Sicuramente dobbiamo uccidere Ma sono dei Sono i sette nanni di Babbo Natale questi Ehi Che cosa ci fate qui? Tutti a lavorare Signori Sti cosini sono piccoli Però c'hanno una cifra di vita Confrotto alle fatine Che abbiamo abbattuto Nello scorso video Che venivano one shotate E ho appena one shotato Anche uno di questi Questi almeno due colpi resistono Ah sono piccolissimi Ok abbiamo preso tutti i nanetti Però abbiamo bisogno ancora dei funghetti Eh abbiamo fatto anche rima Signori mamma mia Dobbiamo prenderne di funghi Ancora cinque Ok Ok va bene Sei Vediamo se questi non ci ha Non c'è No non mi aggrate Io vi volevo risparmiare Guarda lì La cattiveria signori Ho un piccolo presentimento Avete presente la nostra skill Quella sul numero 5 Ovvero questa Secondo me Caricata al massimo Fa danno ad aria E avevo ragione Signori Questo personaggio È una fottuta figata Una fottuta figata So che non ve ne fotte un cazzo Ma oggi qua ci sono 34 gradi E 34 gradi Avete presente quanti sono? Sono talmente tanti Che mentre pensate al numero Si sta già sciogliendo il cervello Accettiamo quest signori Ma soprattutto Ne consegniamo Cos'era? Cos'era? Una Vanguard Quest Con H Fermi tutti Ok Vanguard Quest Check out Ok Teleport Signori qualcosa mi dice Che questi Sono Tipo Dungeon Non vorrei dire Cazzate Vabbè Intanto consegniamo tutto il resto Poi signori vediamo un attimino cosa fare Forse si sblocca da livello 13 Perché abbiamo livellato Quindi sarebbe interessante Andiamo avanti con la quest principale Molto bene C'è un video che taglierò Benissimo E andiamo ad accettare tutte le altre quest Molto bene Adesso si che si ragiona Ok signori Siamo da qualche parte A fare cose Che cazzo ci devo fare Qua dentro io Arcadia Blood Run Oh Ciao amico Si Vorrei Quest Ok Tipo Tipo roba Oh questa la devo dare a te Molto bene E a altro Non lo so signori Non so perché Dove cavolo siamo? Non ci sto capendo niente Vi prego Illuminatemi nei commenti Non solo che dobbiamo uccidere Un sacco di questi stronzi Che hanno anche un bel livello Oh mio dio Ma avete visto? Sono tutti livello 14 Guarda lì Ok Ok signori Questo dovrebbe essere A little bit problematico Se non fosse che noi abbiamo Queste mosse Eeeh Sì La potenza del gunner Pensavate Di battere un gunner professionista Eh? No mi dispiace Non si può Guardalo guardalo Boom Oh ma la cattiveria Cioè la nostra tipa Voi ve la immaginate Di incontrare davvero C'è una che tipo Entra in un pub E ti fa dammi una birra No Boom Più o meno così Ok signori Vedo tanti di questi elfetti qua E mi fa piacere Perché così Almeno avanziamo In una maniera Un po' più decente In quanto Non so quanti tagli Starò facendo Terra è un gioco Terra è un gioco Che taglio ovviamente Tantissimo Essendo un MMO Perché se no Vi annoiereste Davvero davvero troppo E Ovviamente Sto giocando Da una vita e mezza Perché sta questa Non finisce più Aiuto Aiuto Cos'è questo schifoso Qua davanti a me Oi Calmino eh Calmino Bravi 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 così Perfetto Un po' di AOE Un po' di AOE Aia Ho sbagliato proprio il lato Ho proprio sbagliato il lato Di tutto signori E questo potrebbe essere un problema Facciamo questo AOE Ok abbiamo recuperato Abbiamo recuperato Bravo il mio gunner Bravo così Spara Spara Mettiamo la trappola a terra Signori io Andrei un po' pesantino Con questo Giusto per risolvere un attimo La situation Ok Molto meglio Molto meglio E avevi tanta vita Tu eh Non più Mi dispiace Ok signori sto facendo una follia Perché mi sono rotto il cazzo di quest'area Più che altro Venite qui Venite qui Facciamo Ho preso anche uno grosso Ok Rendy forse hai fatto davvero una follia Ok signori ho fatto una follia Oh Sono un coglione Perché continui ad aprire la barra spazzatrice Rendy perché fai queste follie Venite qui Poi devi aggrare tutti Su Su Ok dovete sapere Con la barra spazzatrice qui Come le leggete su schermo Ogni tanto Mi fa fare le auto combo Che sono comodissime Ma non se le premi come un coglione Perché vuoi saltare via Ok Ok Signori Così Questiamo in maniera più intelligente Tipo Morite tutti Oh Sì Oh Sì Anche tu laggiù Ah mi sembra un ottimo metodo di farming Signori Ottimo metodo di farming Ok forse è un po' rischioso come cosa E però Guardate se noi ci mettiamo così Tipo ad aggrarle tutte Come se non ci fossero domani Ho preso anche la pianta Peccato Vieni qua Vieni qua Adesso vira gruppo Tipo che Oh guarda un po' Ho messo per caso una trappola a terra Con Ehi Io che voglio saltare via Signori Mamma mia Che brutto vizio che ho Ok Bene 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 Spara Spara amica mia Spara Ok Benissimo Rollate Brava Brava così Carica al massimo Ok Signori Ce la possiamo fare E' un po' più hardcore La situazione Ma li possiamo gestire benissimo Tutti Adesso non so se state vedendo I danni che facciamo Con questa skill Loro possono farne quanto vogliono Ma noi abbiamo finito la quest Ok Abbiamo finito Il Vanguard Initiate Iniziative Pardon Quindi a questo punto Io posso fare Claim reward Reserve reward Ok Ok E quindi Siamo a posto Siamo a posto Signori Oh Benissimo Detto ciò Visto che questo video E' durato una vita Non so per voi Ma per me si E la mia gola sta monendo Signori Iniziamo a vedere un prossimo video Vi ricordo che questo era terra Il gioco è gratuito Quindi potete scaricarlo Qua sotto Gratuitamente Dal link In descrizione Vi registrate Giocate su Veritas Con me E ovviamente Oltre a registrarvi Sopportate anche me E il mio canale Con tutto il mio progetto Mi raccomando Lasciate tanti bei mi piace Tanti bei commentini Qua sotto E da enjoy E caratterizzate con voi Bye 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 bye